ciao a tutti e benvenuti questa è la seconda nella seconda parte del video della settimana dal 3 al 9 aprile 2023 ed è la stesa che riguarda chi ha scelto il riccio quindi se sei adesso su questo video direttamente sappi che questo è il seguito del video precedente che trovi pubblicato quindi vai sul canale alla home page trovi la parte prima di questo video dal 3 al 9 di aprile quindi per chi aveva scelto il riccio stavamo dicendo nella nel video precedente praticamente qui le carte piuttosto ti invitano a si portare avanti la tua la tua battaglia però contro qualcuno però ti dicono chiaramente non perdere di vista insomma anche il godimento della vita c'è un qualcosa da festeggiare per qualcuno può essere semplicemente la pasqua però ti dicono in quei giorni lì si è destinata a stare molto bene a stare in compagnia ci può essere anche un riconoscimento o addirittura per qualcuno le scuse riavvicinamento una persona che non vedi da tempo una persona al passato però ti dicono stacca la spina almeno in quei giorni li stavamo procedendo poi con il resto della della stesa 9 di pentacoli e 9 di pentacoli per ben due volte ottima carta allora comunque non è in questa settimana che tu devi sferzare il colpo di grazia c'è la tua intenzione di sferzare il colpo di grazia nei confronti di qualcuno non è in questa settimana se si dovesse riavvicinare a te una donna qui parlavamo di un riavvicinamento del passato se questa persona è una donna potresti tu nella tua testa aver chiuso come posso dire ai più dentro di tetto e quando è chiuso con questa persona dentro di te detto io con questa persona ci metto la croce ci metto la croce super perché ti dico questo perché innanzitutto come elementi esterni mi viene una figura femminile ma al contrario ma nuovamente c'è proprio come se fra due donne qui ci fosse proprio una chiusura netta che secondo me c'è già stata di base qui ci sono come due donne che si sono già allontanate e comunque in questa settimana se c'è un riavvicinamento qui la persona che si riavvicina potrebbe non essere accolta a braccia aperte rispetto all'altra cioè che significa che abbiamo anche eventualmente per qualcuno le scuse ma per può essere anche un ex per qualcuno al femminile o al maschile è vero che ho di più la prevalenza della figura femminile però essendo interattivo diciamo che c'è un'energia femminile cioè c'è la dolcezza c'è un qualcuno che cerca di rientrare nella tua vita usando le buone maniere diciamo così più con il crisma femminile qui è come se tu non apri la porta a questa persona qui però ci può essere il tentativo c'è una persona con la quale tu in passato e chiusi i ponti e le chiusi in maniera definitiva quindi eventualmente io non so se c'è un qualche ritorno potresti anche semplicemente ricevere un messaggio su whatsapp con la scusa degli auguri perché qui vedo il clima della della pasqua della festa se non è la pasqua e la festa di pasqua è un battesimo un invito c'è uno qualcosa da festeggiare anche un riconoscimento qui che arriva però qui c'è qualcuno che ha preso le distanze probabilmente sei tu che vedi che vedi la stessa c'è anche un qualcuno che ha preferito rimanere solo piuttosto come si dice meglio soli che male accompagnati quindi al passato c'è stata una chiusura di un rapporto e qui c'è la tua consapevolezza proprio di dire meglio soli che male accompagnati se tu qui è chiuso con qualcuno a distanza di tempo convalli di questa scelta qui ora poi fammi sapere nei commenti se poi ci sarà il ritorno di un qualcuno di scuse di auguri un messaggino un qualcuno che cerca in qualche maniera di riagganciarti però in questa settimana tornando quel discorso di prima laddove c'era una donna vedete c'era un'altra situazione qui dove c'era una donna è rotta con un uomo c'è proprio qui c'è la sfida c'è la guerra c'è la battaglia non è questa la settimana in cui tu devi sferzare il corpo perché di mezzo ci sono le feste quindi c'è tutta questa questa lotta che viene messa in leggero stand by almeno per quanto riguarda i giorni di festa perché abbiamo questo quattro di spade che mi indica il riposo e raccoglimento lo staccare un attimino la spina ed è giusto così non significa questo bastone al contrario che l'impresa non non sarà a te favorevole anzi ti dico qua soprattutto se sei la donna in questione con questa c'è ti ho già detto nell'altro video qui c'è il coltello dalla parte del manico semplicemente ti dicono faccio un esempio se ci sono anche delle tempistiche questo è un video di una settimana qui c'è tutto l'intento tu stai preparando c'è una battaglia in corso tra te e questo cavaliere di spade che pure sta contro sabello sta bello guerrito contro i te qui ci sono una parte contro l'altra nessuno me lo toglie questo in questa settimana continui a preparare l'armamentario ma il colpo faccio un esempio se un'udienza l'udienza non c'è non c'è in quella settimana se è una comunicazione di attacco che devi fare l'altra persona non la fa in questa settimana però tu stai predisponendo tutta l'artiglieria pesante va bene c'è l'iniziativa ma non questa settimana qui c'è l'intento di sconfiggere questo questo nemico ma non questa settimana qui va bene io carissimi carissime ne approfitto tanto di cuore per farvi i miei auguri per una serena pasqua per chi non è insomma del credo cristiano insomma semplicemente sapete poi tra l'altro tutte le festività cristiane la maggior parte sono state prese dalla dalle precedenti feste nel nostro caso di origine pagane dove si festeggiavano i passaggi da un periodo dell'altro su erano feste legate all'astronomia alla natura del passaggio dall'inverno all'estate ne abbiamo già parlato in altri video a prescindere da questo io vi auguro di festeggiare a prescindere dal vostro credo di festeggiare le vostre queste vostre due tre giornate in maniera serena tranquilla con i vostri affetti e come consigliava col quattro di spade di insomma staccare la spina soprattutto se avete tante questioni insomma da sistemare da mettere a posto portatele avanti però in quei giorni lì sabato domenica e lunedì staccate un attimo la spina e godetevi anche la vostra la vostra festa va bene un abbraccio a tutti e buona pasqua a tutti